Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. In questo video parleremo di due articoli abbastanza interessanti usciti dal Fondo Monetario Internazionale e da Ingi Direct, ma anche di banche e decentralizzazione, dell'importanza della decentralizzazione che spesso non viene capita. Allora, iniziamo subito con questo articolo. Si parla di valute digitali stabili, in realtà si parla di stablecoin basate su criptovaluta. La cosa curiosa è che in questo articolo del Fondo Monetario Internazionale effettivamente ci sono dei punti molto interessanti che ho evidenziato. Si parla di adozione di stablecoin come alternative ai sistemi tradizionali e appunto qui ho segnato alcune cose che mi sembrano abbastanza interessanti e spesso anche condivisibili. La prima è perché uno dovrebbe utilizzare una stablecoin. Innanzitutto la stablecoin, come anche le criptovalute, tra l'altro, appunto deve funzionare come store of value e quindi riserva di valore e metodo di pagamento. E diciamo sulle stablecoin, adesso non entro qua nei dettagli su come funzionano, ce ne sono di diversi tipi di funzionamento, però in effetti hanno un valore che tende sempre allo stesso. Quindi diciamo non c'è un vero interesse speculativo in questo tipo di prodotti. E tra le stablecoin citate non è la stablecoin più utilizzata in questo momento, però viene utilizzata questa USD coin che è la criptovaluta stabile creata appunto da Coinbase e dice che appunto recentemente è stata lanciata in 85 paesi. Qui entra più nel dettaglio sul perché le stablecoin sono interessanti. Allora, vabbè, bassi costi, raggiungimento globale, quindi a differenza di altri sistemi di pagamento, utilizzando le stablecoin possiamo pagare in qualsiasi parte del mondo senza troppi impicci burocratici, velocità e un grande potenziale. Altre cose interessanti che vengono dette è appunto si parla di architettura aperta opposta a quella proprietaria delle banche. Quindi questo è un punto molto interessante e parla appunto che appunto sono facili da utilizzare come interagire con un social media. L'altra cosa è che appunto queste stablecoin globali sarebbero molto interessanti per quelle aziende grandi che appunto possono raggiungere un grandissimo pubblico. E poi in questa parte qui fa un elenco di vari rischi delle stablecoin. Questa qui è un'affermazione abbastanza forte, parla che appunto queste stablecoin potrebbero far perdere alle banche anche il fatto di essere degli intermediari. Quindi questa è un'affermazione abbastanza potente e viene appunto specificata in questo articolo. Quindi le banche potrebbero perdere il loro posto come intermediari. E poi parla di altre cose che potrebbero fare le banche, quindi aumentare gli interessi dati ai correntisti oppure altri tipi di offerte. E qui apro una piccola parentesi, non so se avete notato che molte banche oltre a chiudere le filiali fisiche hanno iniziato anche a offrire altri servizi ai correntisti sia per quanto riguarda gli investimenti e anche per appunto altre attività che normalmente venivano fatte da entità come non so le assicurazioni. Quindi è curioso vedere come le banche iniziano a espandersi su altri business per cercare di sopravvivere. L'altro punto che viene citato è che il fatto di utilizzare appunto delle stablecoin potrebbe far sì che si vengano a creare dei grandissimi monopoli cosa che in parte è già così nel diciamo nell'internet attuale ma la cosa veramente preoccupante è il fatto che se tutte le persone iniziassero ad usare una stablecoin diciamo di una certa entità questa entità potrebbe utilizzare il proprio potere per far fuori i concorrenti sostanzialmente. E poi al terzo punto parla che appunto il fatto di usare le stablecoin potrebbe indebolire le valute locali specialmente nei paesi dove appunto c'è una forte inflazione. e questi paesi sono già quelli soggetti alla dollarizzazione quindi molti cittadini di quei paesi preferiscono utilizzare o perlomeno conservare dollari invece della propria valuta locale. E quarto le stablecoin potrebbero promuovere attività illecite e questa cosa diciamo che non è nata con le criptovalute le attività illecite già esistevano prima e hanno sempre utilizzato altri sistemi rispetto alle criptovalute. E quinto punto le stablecoin potrebbero far perdere la possibilità di fare signoraggio per quanto riguarda le banche. Un altro punto interessante è questo qui dove appunto l'ho saltato prima dice anche che le stablecoin potrebbero essere utilizzate per acquistare senza problemi degli asset presenti sulla blockchain quindi nell'integrazione con uno smart contract è più comodo utilizzare una stablecoin che non un altro sistema di pagamento che non può essere verificato con la blockchain. Questo è interessante che venga citato dall'IMF come caso Dudo. Inoltre sempre sul tema di far fuori competitor in questi giorni si è sentito parlare del caso Casa Pound dove appunto Facebook ha bannato questa organizzazione dalla propria piattaforma e che dire come società privata Facebook può avere dei regolamenti più restrittivi rispetto a quelli di un determinato stato di fatto la gran parte dei discorsi pubblici vengono fatti sui social network e se i social network fossero tutti in mano a una certa organizzazione paradossalmente si verrebbe a creare la situazione dove uno vuole esercitare la libertà di espressione ma essendo che tutti i canali sono privati in realtà deve rispettare prima le regole del canale privato e sempre sul discorso decentralizzazione è quello che può accadere l'altro punto è quello che riguarda Google questo qui non è una questione politica però mi è capitato appunto questo articolo su Reddit dove una persona lamenta il fatto che dopo 15 anni di utilizzo del proprio account Google improvvisamente è stato disattivato e non vengono neanche date le spiegazioni in merito a questa persona e quindi questa persona lamenta del fatto di aver perso 15 anni della propria vita e questo è sicuramente un qualcosa che sarà sempre più presente nel senso che magari delle persone potrebbero violare in modo più o meno consapevole dei regolamenti su Google o su altre aziende e di fatto perdere la propria identità digitale che viene appunto gestita da queste piattaforme social e qui mi collego anche a un'altra notizia che è quella di Edward Snowden quello che ha rilasciato le informazioni appunto su il funzionamento del governo americano e nell'ultima dichiarazione dice appunto che potrebbe spostare la propria ricchezza in Bitcoin per evitare appunto il fatto che il governo americano gli confischi i suoi fondi e in questo momento Edward Snowden appunto vive sotto asilo politico in Russia e ha annunciato il suo prossimo libro che si chiamerà appunto Permanent Record e la cosa curiosa è che il governo americano si è lamentato che non gli è stata inviata una coppia di prepubblicazione e quindi dice che non permetterà ad individui di arricchirsi alle spese degli Stati Uniti senza gli obblighi di prepubblicazione e revisione sarà curioso vedere se questo libro di Snowden verrà pubblicato e sarà acquistabile in Bitcoin o con quali altre modalità e direi di passare all'ultimo punto questo qui è un sondaggio di Ingi Direct sulle criptovalute Ingi ha già fatto dei sondaggi in precedenza su questo argomento e qui appunto sono emerse delle cose curiose il rapporto che hanno le persone con il contante, con i pagamenti digitali e con le criptovalute la prima domanda appunto chiedeva se conoscevano Bitcoin, Ethereum, cose così ma quello che mi è interessato di più è stato appunto l'attitudine quindi hanno fatto alcune domande sul futuro delle criptovalute e è curioso vedere che i paesi più entusiasti delle criptovalute sono appunto Turchia, Romania, Polonia, Spagna e Italia e appunto questi tre non sono nella zona euro invece appunto Italia e Spagna sono della zona euro quindi è curioso vedere quali sono i paesi più entusiasti sulle criptovalute e più positivi l'altro punto è questo che chiedeva appunto se sei d'accordo o disaccordo sul fatto che preferiresti che il denaro contante non esistesse più e anche qui è curioso vedere che non sempre quelli che sono a favore del denaro contante sono a favore delle criptovalute spesso ci viene detto che i paesi del nord Europa cashless sono quelli più avanzati eccetera eccetera tuttavia quelli che sono più a favore del denaro contante sono appunto Germania, Austria e Lussemburgo quindi non sono paesi del sud Europa sono anche loro dei paesi abbastanza del nord Europa e tuttavia sono favorevoli ancora al denaro contante che dire queste erano le notizie che mi sono sembrate più interessanti in quest'ultimo periodo come sempre lasciatemi un mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se non siete iscritti vi saluto e ci vediamo in un altro video ciao